Siamo qui a Venezia con il sindaco Massimo Cacciari e ci ha accordato un'intervista che la chiedevamo da tempo, sempre preso da molte incombenze però finalmente l'abbiamo qui e vorremmo portarlo un attimo sulla questione meridionale di cui tanto ultimamente si parla, c'è una trasmissione radiofonica della RAI che negli ultimi giorni ha posto addirittura la domanda dividiamo l'Italia oppure no Lei è il sindaco della più grande città di una regione con la Lega al 27 si è distinto per portare all'attenzione del paese la questione settentrionale e il federalismo cosa mi dice della questione meridionale? In particolare il risorgimento fu vera gloria o in realtà qualcosa c'era già sotto sin da allora e oggi gli italiani davvero la vogliono l'Italia Unita? Sì, la sua domanda presupporrebbe una mia capacità di affrontare in breve un'intera storia italiana dal risorgimento ad oggi andiamo a flash il primo e fondamentale per me è quello che porre la questione settentrionale cioè porre una questione che riguarda le specificità economiche e sociali dell'area settentrionale ma direi in particolare dell'area nord-est del Lombardo-Veneto, del Triveneto e della Lombardia non significa porre una questione o indicare una prospettiva di secessione o di divisione questa è risibile porla, anche soltanto porla, anche soltanto ipotizzarla, pensarla questo fa parte dell'idiotismo politico oggi il problema è quello di creare delle macro aree semmai economiche, politiche non certo quella di inventarsi addirittura in questo caso nazionalismi regionalistici quindi la questione settentrionale indica un problema, un problema specifico dell'Italia tutta unita quindi nessuna nostalgia secessionistica, nessuna ipotesi di divisione, primo aspetto tuttavia il problema italiano oggi, il problema dell'unità italiana oggi si pone in termini completamente diversi dal passato non può più porsi in termini centralistici il modello centralistico non regge più non solo è diventato dispendiosissimo in tutti questi anni l'unico aspetto che non è stato minimamente toccato da tagli, sacrifici, riduzioni è l'oceano ministeriale che prolifera in tutte le regioni gli addetti nel Veneto dei ministeri sono maggiori di gran lunga maggiori agli addetti della regione e degli enti locali messi insieme ma così è dappertutto sì appunto quindi il problema è un problema di ridefinire completamente il modello regionalistico e il problema è quello di realizzare un utentico federalismo in cui alle regioni corrisponda le regioni non corrispondono più soltanto a dei centri di spesa trasferimento spesa erogazione di risorse ma responsabilità specifiche sul piano della riscossione delle entrate sul piano della riscossione delle risorse responsabilità specifiche cioè un modello federalistico è un modello che responsabilizza sulla base di un'effettiva autonomia cioè ci sono dei campi in cui io sono effettivamente autonomo posso imporre delle leggi e questo vale anche per gli enti locali le più larghe possibili che mi permettano di acquisire le risorse con contratti precisi con i miei cittadini che acquisire le risorse per poi garantire e erogare servizi quindi il problema non è la divisione dell'Italia che sarebbe una totale follia anche solo ipotizzarla nel mondo attuale ma il problema è realizzare finalmente un autentico federalismo questo vale per il sud come vale per il nord il problema del risorgimento il vizio è lì all'origine il risorgimento come tutti i risorgimenti poi avevano questo accentuato spirito centralistico in parte derivavano da un'ideologia anche giacobina per certi aspetti ma comunque era un movimento naturale a loro nel corso dell'Ottocento che i vari nazionalismi fossero per loro natura molto accentratori il mito delle capitali se mi permette un'Italia che avviene pochi anni prima dell'apertura del canale di Suez con una marina mercantile borbonica fortissima certo, ma il problema è che purtroppo l'unità italiana come quasi sempre è avvenuto ha questa natura centralistica e questo è il peccato originario del nostro risorgimento non essere riuscito a realizzare un modello federalistico ma bensì un modello assolutamente accentratore che poi è stato esasperato dalle esperienze successive in particolare dal fascismo i costituenti avevano idee molto diverse tanto è vero che nella Costituzione sono previste le regioni ma le regioni si sono create tardivamente e su modelli centralistici a loro volta quindi invece di avere un centralismo ne abbiamo 19 centralismi alcuni a statuto speciale altri no quindi anche con queste divisioni interne che apportano ulteriori guasti perché la divisione tra regioni a statuto speciale e regioni a statuto ordinario comportano una continua conflittualità tra i due tipi di regione quindi un modello regionalistico avviato tardivamente avviato al di fuori di quella cultura federalistica che pure c'era nelle teste di molti padri costituenti basta pensare a Don Sturzo basta pensare a altri sia nel mondo cattolico che nel mondo laico e poi appunto delle regioni che si sono realizzate su modelli centralistici quindi e quindi questa è la situazione la situazione però è che se si parta con un federalismo spinto in realtà poi ci siano delle regioni del sud che rimangano troppo indietro no perché perché il modello centralistico come l'ho in mente io e come l'hanno in mente tutti coloro che hanno ragionato ripeto da 25 anni a questa parte su come andrebbe strutturato un effettivo federalismo comporta una camera delle regioni e delle autonomie che ha competenza soltanto in materia di trasferimento di distribuzione delle risorse regionali e all'interno di questa sede autonoma delle regioni e delle autonomie in base alle esigenze specifiche di decollo e di sviluppo progetti però specifici non l'assistenza anche assistenza in questa regione c'è stato il terremoto bene, concordamente interveniamo per risolvere quel problema di emergenza ma al di là delle emergenze sulla base di progetti specifici di decollo, di sviluppo eccetera eccetera di fondi per equativi le regioni nel loro insieme senza un capo che decide lui a prescindere dalle specificità di questo e di quest'altro come distribuire le risorse sono le regioni che si distribuiscono le loro risorse anche tenendo presente problemi di perequazione e problemi di solidarietà quindi certo è per usare meglio il modello federalistico comporta proprio perché non è un modello disgregativo comporta il ripensamento del Parlamento e del Governo perché ci dovrebbe essere un Parlamento in cui vi è una Camera dedicata al problema specifico delle politiche diciamo regionali e un esecutivo che avrebbe questa controparte importantissima di una Camera che ha poteri fortissimi in materia appunto di sviluppo regionale la devo sappiamo che lei ci ha poco tempo perché ha preso con me da mille cose devo parleremmo molto volentieri ancora di questo ma vorrei portarla su qualche altro problema lei ultimamente si è dichiarato quasi disinnamorato della politica sappiamo che lei è alla guida di Venezia con aiuto a suo tempo di Udeore Margherita in combattimento in protesta se vogliamo con il PD e il suo candidato di allora adesso si dichiara un attimo era un PD allora allora è un DS era un DS certamente oggi si dichiara un attimo perplesso sulle mutazioni all'interno del PD poi la vediamo chiacchierare con Rutelli c'è un grande Demiurgo dietro ma nemmeno tanto dietro nemmeno molto celato che torniamo al sud è un uomo molto molto del sud che è Demita i suoi rapporti esistono rapporti? non so quanto ci sia dietro Demita a ciò che ha deciso di fare Rutelli io non la mia posizione è diversa da quella di Rutelli e condivido con lui la denuncia tra virgolette che ha fatto di un partito democratico che è nato molto molto lontano dai nostri desiderata da quelli per i quali io mi ero speso avevo combattuto all'interno dell'area Margherita di esse in questi anni e anche prima perché di fatto questo partito non è un partito nuovo almeno per il momento vedremo è la continuità in termini di forte continuità rispetto ad una tradizione e cattolico popolare specifica soprattutto dell'area tosco-emiliana e della tradizione socialista socialdemocratica eccetera anche lì caratterizzata in particolare nella dorsale appenninica quindi una cosa che mi pare molto povera rispetto a quelli che erano i miei desideri e siccome io sono ormai di una certa età è inutile che continui a combattere per cose che ormai seguono il loro corso e mi auguro che lo seguano al meglio con maggiori successi questo è un segnale positivo questo è un segnale comunque positivo e staremo a vedere insomma io non ho più tanta voglia francamente De Mita lo conosco da 30 anni da quando ero deputato ed è una persona certamente intelligente e ci sono delle prospettive anche interessanti adesso tutto dipenderà da quando finisce l'era Berlusconi che finirà ovviamente come tutte le ere si vede come finirà finirà nel senso che la legislatura finisce non penso a nulla di traumatico nulla di tragico la legislatura finisce e non c'è dubbio che a quel punto dovranno trovare soluzioni diverse non c'è dubbio che a quel punto non potranno ripresentare Berlusconi mi pare evidente quindi si aprirà un discorso interessante all'interno del centrodestra sarà un discorso molto pesante da affrontare anche nei rapporti tra centrodestra e Lega io mi auguro che tutto questo avvenga in termini pacifici ovviamente senza nessun trauma particolare perché potrebbe anche avvenire in termini invece traumatici attenzione politici siate avveduti e prudenti perché il discorso perché nulla nulla se l'Italia è in una situazione molto delicata una vera unità nazionale non c'è mai stata se il centrodestra si sposta troppo clamorosamente sul fronte della Lega come niente ti nasce una Lega anche al Sud rompendo il PDL si lo so bene ma una cosa sono i movimenti un'altra cosa è una Lega tipo quella del Nord spaccando il PDL perché mentre la Lega è sempre stata in concorrenza con Berlusconi il centrodestra al Sud se ti nasce ti nasce spaccandoti completamente il PDL e quindi una crescita di instabilità politica nel Paese preoccupantissima anche perché la Lega al Sud lei lo sa bene sarebbe una Lega che per certi versi di avere grosse infiltrazioni esattamente quindi che bene o male invece non ci sono assolutamente al Nord perché la Lega al Nord è veramente una natura assolutamente popolare questo è il tratto che per un verso rassicura e per l'altro inquieta rassicura perché certamente la Lega non è una Lega infiltrata o infiltrabile inquieta perché sa gli appetiti gli impulsi la pancia a volte del popolo non è proprio la cosa più bella del mondo da vedere i politici di razza lo sanno bene i politici di razza della Prima Repubblica sapevano bene che non dovevano seguire gli impulsi della base comunista o della base democristiana in queste regioni ne sono rimasti pochi oggi di politici della Prima Razza eh sì ne sono rimasti pochetti ma per forza ma che oggi ci stupiamo guardi che adesso le faccio discorsi da puro osservatore politico e studioso di storia politica e di cosa ci stupiamo certo che c'erano dei politici di grande levatura nella Prima Repubblica perché l'Italia nella Prima Repubblica era una terra decisiva dove si giocavano buona parte del conflitto tra occidente tra i due titani usciti dalla seconda guerra mondiale buona parte di quel conflitto si giocava qui ma perché crede che ci sia stato il più grosso delitto politico della storia mondiale dopo quello di Kennedy della dopoguerra in Italia credevi sia per caso perché qui si giocavano partite decisive e l'Italia era il centro di partite decisive e il bisogno fa l'organo se devo condurre battaglie decisive su un piano geopolitico non posso mica avere i due personaggi che ho adesso per le scatole questo è la tristezza di un declive no ma perché tristezza io sono felicissimo quando gli dico questo mancherebbe altro di essere ancora negli anni di piombo mancherebbe essere ancora nella guerra fredda mancherebbe essere ancora prima della caduta del muro ma questi sono fatti da salutare positivamente abbiamo politici banali ma no il paese era quello di prima soltanto che c'erano cristi politici che dovevano bene o male misurarsi su queste questioni guardi che gran parte della stabilità della prima repubblica dipendeva da questo cioè uno votava democristiano e l'altro votava comunista a prescindere da quello che facevano perché l'uno era l'Europa l'Occidente e quell'altro era il socialismo l'avvenire il futuro quando mai io da ragazzo sono andato a votare una qualche elezione sulla base di quello se i comunisti o i democristiani avevano amministrato bene o male il comune andavamo a votare per idee andavamo a votare per progetti per programmi perché eravamo un paese ideologicamente centrale perché crede che ci sono state qui le Brigate Rosse perché crede che ci sia stato qui il delitto moro perché è un paese ideologicamente centrale perché adesso non ci sono bene bene per carità di Dio per carità di Dio benissimo per carità non voglio dare nemmeno per un minimo un giudizio ma le abbiamo sostituite col transe di Marrazzo alla fine a questo punto nel senso che il paese è più attento quando noi nel nostro piccolo abbiamo messo il quadratino le ultime notizie ha avuto un picco di ascolti lei ha ragione lei ha ragione così ma non c'è solo Marrazzo ci sono tanti anche politici ma certamente c'è una classe politica che può apparire più debole culturalmente più povera non c'è dubbio alcuno ma la ragione è una ragione storica non è una ragione psicologica eccetera è una ragione storica quindi come portiamo di nuovo i ragazzi perché alla fine il problema è quello come portiamo i ventenni d'oggi di nuovo a parlare a ragionare come forse ma ci sono grandi grandi prospettive sono tutte le questioni di frontiere un ragazzo non si può appassionare sulla raccolta di rifiuti o sulla non c'è niente da fare un ragazzo si può appassionare per oggi sulle questioni di frontiera Saviano con Gomorra è appassionato molto beh va bene ma perché lì ha affrontato la questione dell'organizzazione criminale e del peso di un'organizzazione criminale all'interno della società e del condizionamento di una società bloccata dall'organizzazione criminale una questione fondamentale non solo per il nostro paese non solo per il mezzogiorno certo le organizzazioni criminali oggi sono la più grande multinazionale ma senza paragone e quindi affrontare questo nodo se vogliamo dare sviluppo al mondo e se vogliamo affrontare i problemi colossali dell'umanità il rapporto nord-sud della fame nel mondo eccetera affrontare le questioni della criminalità organizzata su scala planetaria sono fondamentali un ragazzo su questo si deve appassionare e così come si deve appassionare sulle questioni etico-politiche di frontiera il rapporto tra scienza e politica il rapporto tra economia e politica quale devono essere le regole le norme da introdurre oggi per il funzionamento dell'economia di mercato il peso della religione nella politica sono tutte grandissime questioni appassionanti quando faccio dibattiti sul rapporto politica religione sulla storia e la tradizione teologica del nostro paese sulle radici d'Europa sul significato delle tradizioni europee ci sono centinaia di giovani che vengono a dibattere a discutere che si appassionano di queste questioni sono le nuove grandi questioni politiche su cui non il nostro paese ma tutta l'Europa deve misurarsi io credo che quello che mi ha deluso profondamente del partito democratico mi immaginavo proprio un partito che affrontava queste questioni che faceva appassionare intorno a queste questioni non che andava a vedere cosa faceva ogni secondo momento il cavaliere o chi per lui capisce che partiva con una sua lunga marcia autonoma per incontrare anche l'opinione pubblica e soprattutto i giovani a un certo punto non per inseguire l'opinione pubblica inseguire i sondaggi eccetera eccetera è capito su un gioco dove tra l'altro il cavaliere è più bravo su un gioco dove il cavaliere è più bravo è più potente oltre che più bravo perché non basta essere bravi occorre avere anche i mezzi per esserlo perché io posso essere bravissimo a fare televisione ma se non ho le televisioni non la faccio giusto quindi capisce sono quei budini che si provano mangiandoli ecco quindi è bravo è potente è potente è bravo e su quel piano lì ma non è quello il piano del futuro ma scherziamo ma non è quello il piano del futuro crede che la Lega sia arrivata al 27% nel Veneto perché ha le televisioni no non è nessuna la Lega sta prendendo il potere nelle fabbriche sostituendo le stesse cose che una volta faceva il vecchio partito ma guardi ne so qualcosa a questo proposito certo lei sta radicandosi certo questo è far politica radicandosi la Lega in un certo modo ma ci sono anche non c'è solo la Lega sono le questioni che prima ricordavamo che possono sulle quali tu puoi assumere una nuova relazione un nuovo rapporto con la società con la scuola con l'università con i giovani e questo non è stato fatto dal PD speriamo che lo faccia voglio dire nulla vieta che ci sia una conversione che non c'è stata finora in questa direzione qui la prospettiva è comunque una prospettiva che secondo me può essere non drammatica può essere gestita se il PD evolverà nella direzione che ho detto se nel centrodestra la successione a Berlusconi avverrà in modo tra virgolette pacifico allora si può aprire anche si potrebbero aprire anche delle relazioni dei rapporti oggi impossibili perché ormai storicamente impossibili con Berlusconi inutile con sta roba sì adesso dialoghiamo è impossibile a un certo punto scattano anche meccanismi psicologici che rendono impossibile il dialogo tra due persone come tra due forze politiche però esattamente però preparare poi una fase nella quale con un certo accordo una fase che io chiamo costituente con un certo accordo sui fondamentali tra le diverse forze politiche per avviare tra l'altro anche quella riforma costituzionale in senso federalistico di cui da anni parliamo senza riuscire a realizzarla questo io penso che sia possibile perché tra persone come Fini Letta da un lato e anche Bersani o Rutelli dall'altro l'intesa sui fondamentali può esserci può essere trovata potrebbe essere trovata anche domani se non ci fosse Berlusconi anche domani ma fin tanto che c'è questa questione e si vedono si vedono i movimenti di Fini ma certo le riquetudine ma anche più nascoste ma anche Letta è uno che cerca costantemente di riannodare in più c'è Casini che potrebbe rappresentare in questa situazione di passaggio potrebbe rappresentare un punto di riferimento importante quindi io non sono pessimista quello che dico è che a me questa roba qua interessa relativamente poco a me interessa una prospettiva di carattere culturale politico mi interesserebbe cioè che ci fossero le condizioni per poter poi dire ok ci sono le condizioni bene cominciamo a ragionare sul serio su cosa significa federalismo cominciamo a ragionare sul serio su cosa significa dare delle speranze delle prospettive a questi giovani che sono bravissimi che hanno voglia di studiare che hanno voglia di fare e che veramente non hanno futuro in questo paese il popolo dei 110 lode disoccupato il popolo dei 110 lode disoccupato sì che veramente è anche per me personalmente proprio la mia il mio dolore il mio dolore perché non riuscire appunto a dare un'indicazione di prospettiva credibile realistica a dei ragazzi che conosci che studiano con te e che sono veramente bravissimi eccezionalmente bravi 10.000 volte più bravi di te e che hanno e che essendo giovani hanno anche più testa e materialmente non riuscire a dargli una prospettiva che non sia il più il più precario dei precariati tra l'altro questo termine precarius è bello è bello è orribile perché il precarius è colui che per sbarcare il lunario per potercela fare deve pregare questo è il precario il precario non è una persona semplicemente che ha un lavoro è il precarius è colui che chiede l'elemosina è colui che deve pregare quello è il precarius ecco questo è un nome orribile orribile cioè bisogna che non ci siano precari non devono esserci precari deve esserci un lavoro mobile certo deve essere una persona che dice certo non lavorerò tutta la vita come faceva mio nonno e nello stesso posto cambierò lavoro ma ho una garanzia di continuità contributiva eccetera eccetera e non devo pregare qualcuno per avere lavoro e questo a tutta l'età a tutta l'età perché non scordiamoci che a parte i giovani c'è una massa dai quarantenni e over che hanno perso il lavoro è certo non lo troveranno mai più è certo quindi queste sono le cose sulla quale le politiche sulle quali anche i giovani potrebbero entusiasmarsi di nuovo bisogna che appunto le forze le forze politiche mostrino di essere interessati a questi temi e non a trans a vallette a veline a riforme di giustizia ad personam eccetera eccetera se no veramente la delusione diventerà diventerà abbandono se non peggio rivolta se non peggio rivolta perché a un certo punto ricordiamoci cosa è successo dopo dieci anni quindici anni di partitocrazia inefficiente in questo paese appena sono alcune cose hanno cominciato a franare ricordiamoci cosa è successo e ancora ne stiamo pagando il dazio in termini di demagogia di populismo e così via quindi le monetine lanciate esattamente gli spulti le monetine e così via cose che a me non facevano piacere allora e non farebbero piacere domani nei confronti e anche del peggiore avversario politico perché quella è demagogia e populismo l'unica possibilità io le devo un attimo richiudere anche perché so che davvero lei ci aveva però vedo che la cosa la appassiona questo discorso sicuramente la appassiona e d'altronde alla fine in questo lungo giro siamo arrivati all'inizio cioè è inutile professare una divisione una parcellizzazione ulteriore se non con un mondo che invece si deve allargare se devo trovare lavoro devo potermi allargare devo poter entrare in economie più grosse ma certamente il problema della formazione dei giovani è quello di renderli competitivi sul mercato globale è evidente l'idea di di radicarli in piccole comunità locali o che il lavoro sia un lavoro professionalizzante per quella determinata specifica dimensione è una follia oggi bisogna pensare a un processo di formazione globale il globale non è in contrasto con il locale non c'è nulla di più stupido tu parti dalla tua identità e poi quella identità la maturi la trasformi la arricchisci attraverso il confronto con l'altro più cose sai più cose conosci più la tua dimensione mentale culturale globale più sei te stesso più forte sei nella tua identità non più debole quindi questo così va pensato quindi nessuno abbandono dell'uovo nessuno ma guai a pensare il luogo come il vaso di una pianta dove ci stai dentro con le tue radicette lì e non ti muovi perché lì veramente significherebbe distruggere ancora peggio di come già non lo sia i nostri giovani direi che con questa frase sicuramente possiamo terminare lasciare il sindaco Cacciari alle sue incombenze che sono continue pressanti io sono contento la chiacchierata è stata davvero interessante la troveranno interessante i nostri ascoltatori anche perché abbiamo toccato diversi argomenti sui quali magari se lei vorrà in futuro e a breve perché tanto i movimenti che abbiamo toccato e che abbiamo nominato si stanno muovendo adesso quindi magari a breve potremo ritornarci sopra grazie a lei volentieri saluto tutti Alberto Marolda arrivederci